Mister, arriva questa sconfitta con la squadra che comunque era partita molto bene nei primi 15 minuti, ha messo sotto il Mosciano, poi via via si è andata un po' spegnendo e la squadra ospita ha trovato appunto questi due gol nel secondo tempo. Mister, arriva questa prima sconfitta. Sì, al primo tempo abbiamo fatto bene, complessivamente abbiamo fatto bene, abbiamo fatto un grande primo tempo. Dopo il secondo tempo non siamo usciti a salire, attaccanti tenendo poco la palla e ci siamo di conseguenza allungati. Però tra i guetta era una partita pure sotto controllo, non era una partita, non sembrava che potevamo farci i gol, però va bene, dobbiamo crescere, migliorare, bisogna leccarci ferite e ripartite. Però non c'erano i presupposti di fare questa prestazione, al primo tempo abbiamo fatto bene soltanto i partiti, durano 90-95 minuti e si decidono gli ultimi 20 minuti. Dopo magari è inutile parlare di assenti o cose, dispiace, abbiamo perso, però i ragazzi hanno dato tutto, non gli posso dire nulla. Dopo loro hanno trovato il secondo coso, una palla ferma. Loro poi si sono calvanizzati e noi di conseguenza abbiamo iniziato a perdere un po' di fiducia, che è un gruppo giovane e davanti magari avevamo poche energie, mancato stanco, è mancato magari riferimento anche un leader in campo. Presidente, si può dire, è un'impresa ma ottenuta con grande coraggio e giocando bene, nonostante il vantaggio dei padroni di casa, il Mosciano poi è uscito e ha fatto un grandissimo secondo tempo. Certamente abbiamo fatto una prestazione straordinaria, tenendo conto che siamo andati sotto dopo pochi minuti e abbiamo avuto la forza di reagire con lucidità, abbiamo creato diverse palle-golle e poi ne abbiamo fatti due che sono stati sufficienti a vincere una partita giocata, credo, con autorevolezza. Quanto è soddisfatto anche per il carattere che ha messo la squadra in campo? La soddisfazione è enorme perché naturalmente Giulianova è del Giulianova e il resto è Giulianova. Io colgo l'occasione per fare tanti auguri al Giulianova perché credo che il campionato sia ancora lungo e possa fare ancora bene. Noi abbiamo cominciato l'annata con alcune partite, la prima sbagliata con Lanciano, poi le altre abbiamo giocato bene ma non l'abbiamo raccolta. Oggi è stata una partita in cui abbiamo giocato e capitalizzato quanto di buono fatto.